bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi volevo parlarvi di una cosa abbastanza abbastanza interessante che molti di voi sicuramente non sanno e che apprezzeranno di fortnite allora ragazzi abbiamo visto qualche giorno fa che c'è stato il nuovo modo di rivedere le nostre partite ragazzi a replay infatti si chiama proprio il replay stiamo vedendo infatti alle mie spalle intanto mentre va avanti la partita tutti i modi vari ed eventuali per vedere il replay come vedete ragazzi si può veramente fare di tutto si può girare 360 gradi si può cambiare la visuale si può veramente veramente divertirsi in tutti i modi possibili ed immaginabili e big games quindi ragazzi è veramente contenta del loro lavoro della creazione del replay e quindi ragazzi ha instaurato un contest esatto esatto ragazzi un contest per tutti quindi aperto assolutamente a tutte le persone a tutti i giocatori che vedrà un bel po di premi e anche un bel po di vincitori mentre ragazzi in cosa consiste quindi in questo contest loro ci chiedono di andare a creare una clip che sia compresa dai 60 ai 90 secondi per intenderci che venga creata utilizzando al meglio il nuovo strumento di replay in poche parole ragazzi non c'è limite alla fantasia potete fare tutto quello che volete ragazzi potete andare dove volete in qualsiasi posto in qualsiasi luogo potete ballare potete sparare potete mandare quello che vi serve la cosa importante è che per candidare la vostra clip dovete aggiungere l'hashtag replay royal ai metadata e alla descrizione del video di youtube loro sicuramente poi andranno a vederli tutti mi raccomando cancelletto replay royal questo concorso è iniziato ieri che oggi è il 14 aprile quindi ieri 13 aprile e terminerà alle 23 59 del 26 aprile quindi immaginate quante migliaia di video arriveranno ragazzi la epic games tiene appunto a dire che ci saranno veramente tantissimi tantissimi premi ve li vado ad elencare il primo premio ragazzi il primo premio è una cosa veramente veramente meravigliosa ragazzi è un computer alienware aurora con toby eye tracker 4c più atomos ninja flame più g technology atom master caddy con un terabyte di hard disk ragazzi un computer da gaming portatile allucinante abbiamo oltre a questo una conference call da 30 minuti con il team di epic games quindi potrete parlare direttamente con gli sviluppatori per 30 minuti avrete una borsa intera di gadget di fortnite avrete un'altra borsa intera di gadget di alienware che è appunto la marca del computer che vi ho detto prima e per chiudere avrete ragazzi 10 mila dollari no 10 mila v bucks nel gioco ci sono anche i premi per i finalisti ragazzi sono 5 premi avrete per i 5 finalisti un atomos ninja flame che dovrebbe essere se non sbaglio il mouse credo più il g technology atom master caddy da un terabyte che è un hard disk esterno come quello di prima in poche parole tastiera e tastiera e mouse da gaming avanzate alienware quindi il ninja flame non era un mouse più il toby eye tracker 4c ovviamente avrete le stesse cose del vincitore senza il computer la borsa di gadget di alienware e la borsa di gadget di fortnite oltre a 5000 v bucks abbiamo le menzioni d'onore ragazzi quindi 10 postazioni 10 menzioni appunto che vengono date dal team di epic games che otterranno 5000 v bucks e altri 74 premi per tutti quelli qualificati infatti sceglieranno 74 video da tutti quelli che sono stati creati che otterranno 2500 v bucks su cosa si basa in poche parole la valutazione da parte del team di epic games sul nostro video praticamente sulla maestria quindi il video deve testimoniare una certa maestria del nuovo sistema di replay dovete imparare ad usarlo bene ragazzi dovete usare bene tutti gli strumenti del replay l'esposizione, l'apertura, l'angolazione, il drone insomma un sacco di cose anche qua da far vedere come la utilizzate la creatività cioè ovviamente oltre ad essere usato bene lo strumento di replay dovete anche essere molto creativi per terminare lo spirito di fortnite quindi far inserire nel video la creatività l'essenza di fortnite beh ragazzi io spero che tantissimi di voi prepareranno il loro video con l'utilizzo del replay vi auguro ovviamente di vincere di arrivare comunque nelle persone qualificate vi ringrazio per aver guardato questo video e vi ricordo di mettere un bel like e di iscrivervi al canale perché abbiamo davvero bisogno ragazzi di arrivare a 25.000 iscritti nel più breve tempo possibile noi ci vediamo presto ciao 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 ciao